Visual Log, allora prima di iniziare un video di oggi vi ricordo ancora una volta che martedì 30 gennaio finalmente svelerò che cos'era quel progetto che mi ha tenuto impegnato per buona parte dello scorso anno e vi darò un altro indizio, quello di ieri è che si tratta di un oggetto fisico che potete toccare quello di oggi è che riguarda il cinema e in particolar modo una cosa che mi chiedete spesso forse è la cosa che mi chiedete maggiormente quindi qualcosa di fisico che riguarda il cinema e è qualcosa che mi chiedete spessissimo quindi chissà che cos'è fatemi sapere in un conto qui sotto cosa pensate che sia e poi voglio dirvi che sul sito i pampling che trovate in canto di scritto qui sotto è cambiata l'offerta tutte le magliette in catalogo costano 11,90 e c'è il 20% di sconto su tutti gli altri prodotti che trovate in catalogo e tra le varie magliette c'è anche questa con gli Italian Villains che è carinissima trovate il link a questa maglietta in descrizione qui sotto e se è il vostro acquisto di questa maglietta o di qualunque altro prodotto in catalogo aggiungete un paio di calze alla vostra scelta e usate il codice VILASLO le calze non le pagate quindi se vi interessa cosa fare ora però vado nel cerchio e iniziamo subito con il video di oggi sigla allora oggi finalmente posso parlare di un film che non vedevo l'ora di guardare e che ha vinto il Leone d'Oro allo scorso festival di Venezia ha vinto il Golden Globe per il miglior film comedio musicale e per la migliore attrice in un film comedio musicale è candidato a 11 premi Oscar ed è un film del 2023 per la regia di Yorgos Lantimos ed è Povere Creature tratto dall'omonimo romanzo di Alasdair Grey che ho iniziato a leggere e l'ho acquistato per il Kindle subito dopo essere uscito dalla sala perché sono rimasto estasiato da questa pellicola e ero curioso perché ho notato che è un film piuttosto divisivo noto che in tanti ne parlano bene sì ma altrettanti invece trovano molti difetti sostengono che sia un film eccessivamente didascalico e in effetti in parte lo è anche però per me non è un problema se il tutto è effettivamente voluto e io ero curioso proprio perché mi sono detto beh Lantimos non penso che si sia rincoglionito da un film all'altro quindi se il film sta facendo discutere così tanto è perché si vede che ha un suo valore intrinseco di solito quando una pellicola è considerata per tanti premi ma si sentono opinioni così discordanti è perché il regista stesso ha voluto accendere un dibattito con la sua opera guardandolo mi sono reso conto che è esattamente così perché povere creature è una pellicola che manda un messaggio femminista molto forte però personalmente trovo che sia un messaggio non esclusivamente femminista perché il film parla sicuramente di emancipazione femminile prendendo in esame due aspetti della vita che soprattutto in passato sono sempre stati problematici per le donne la cultura la conoscenza e il sesso poi ambientato in questo 800 diciamo u cronico se vogliamo dove ci sono delle tecnologie piuttosto futuriste però le regole della società sono quelle dell'800 reale quindi il comportamento di bella baxter interpretata da emma stone è sicuramente era sicuramente poco consono a una signorina ok perché comunque desidera conoscere una grande fame di conoscenza e soprattutto è perfettamente consapevole delle proprie pulsioni sessuali che soddisfa senza troppi complimenti e è una sorta di storia del frankenstein di mary shelley rivisitata perché sostanzialmente bella è una versione femminile del mostro di frankenstein che paradossalmente se ne parlava nei commenti c'è un ragazzo nei commenti su instagram che ha scritto una cosa con cui sono estremamente d'accordo cioè il fatto che la cosa viene un po' al contrario finché bella è ingenua e soddisfa i propri appetiti quasi senza rendersene conto è vista come una creatura pura quando poi inizia ad acquisire la conoscenza è lì che viene vista come il mostro di cui avere paura ed effettivamente anche lo stesso film te la mostra diventare molto più austera mano a mano che acquisisce consapevolezza di sé ed è una cosa che io ho trovato molto interessante poi da un punto di vista puramente tecnico il film è eccezionale è eccezionale perché la regia di lantimos come sempre ha quelle connotazioni quasi claustrofobiche in alcuni momenti soprattutto nelle scene bianco e nero dove utilizza questi mascherini che sono propri del cinema degli anni 10 e 20 soprattutto e che viene usati tanto anche nell'espressionismo tedesco che viene citato nelle scenografie quasi barocche in un certo senso che sono meravigliose ci sono dei momenti soprattutto quando la scena si sposta a Lisbona in cui mi è ricordato il gabinetto del dottor Caligari che era caratterizzato da queste scenografie storte che sono proprie dell'espressionismo tedesco la deformazione, il grottesco ma lo stesso aspetto di Godwin Baxter che è interpretato da Willem Dafoe che è un po' il professor Frankenstein di turno diciamo questa versione deformata ma per un motivo lui è il prodotto della sete di conoscenza e lui stesso applica questa sete di conoscenza il suo aspetto è molto grottesco e molto espressionista tant'è vero che secondo me anche qui torna un po' al dottor Caligari perché il dottor Caligari del titolo aveva un aspetto deformato così come lo ha questo Godwin Baxter tra l'altro è un personaggio che a me è piaciuto molto perché lui è sì il prodotto della sete di conoscenza così come lo è Bella lui ha fatto a Bella più o meno quello che il padre aveva fatto a lui solo in una maniera diversa perché il padre lo ha trasformato in qualcosa di grottesco che le persone hanno paura a guardare o lo scherniscono quando lo vedono lui invece ha preso qualcosa che non esisteva più sostanzialmente l'ha trasformato in qualcosa di vive pulsante che potesse vivere la propria vita perché lui a un certo punto capisce che non poteva fare come faceva suo padre perché ha sviluppato dei sentimenti e quindi questa cosa è molto interessante peraltro ci sono delle scene che sono surreali come i momenti in cui Godwin mangia a tavola io li ridevo ogni volta perché c'è una gag reiterata che però non mi ha assolutamente dato fastidio perché la mettevano nei momenti giusti e a me il film è piaciuto tanto proprio perché ti parla di libertà ti parla di emancipazione tantissime persone mi hanno detto eh ma se tu hai trovato problematico quel messaggio di Barbie troverai problematico questo perché sono due film molto simili non potrei essere meno d'accordo di così perché ad esempio mi era stato detto che anche in questo film la figura maschile è vista come qualcosa di negativo in un certo senso francamente non mi è parso perché i personaggi maschili veramente negativi sono due che sono il personaggio di Mark Ruffalo Duncan che rappresenta l'uomo possessivo che vorrebbe trattare la donna come un oggetto da comandare che ha il suo servizio e il colonnello generale non mi ricordo che ha interpretato a Christopher Abbott che è il Charlie the Girls attore che a me piace tantissimo gli fanno sempre parlare da parte dello stronzo se ne parlava con la Svet l'ho fatto notare lei ieri parlando diceva ma questo qui fa sempre il coglione lo stronzo in effetti però è bravissimo e sono gli unici due personaggi effettivamente negativi perché gli altri in realtà mi sembra che siano personaggi che si mettono anche piuttosto in discussione a partire da Godwin arrivando a Max McCandles che è l'assistente un uomo che lui stesso deve un pochino emanciparsi quindi è per questo che dico che il messaggio sì è femminista ma non è solo femminista perché qui i personaggi che cambiano sono più di uno poi c'è il personaggio di Harry che a me è piaciuto molto perché anzi mi è dispiaciuto che sia in scena così poco perché era un personaggio estremamente affascinante anche lui non mi sembra particolarmente negativo quindi non ho capito bene dove si sia visto questo tentativo di far passare gli uomini come scemi non mi è parso e anche fosse stato l'avrei anche capito di più per via del periodo storico in cui ci troviamo cioè che il personaggio di Mark Ruffalo sia così cretino ci sta perché è la sintesi dell'uomo vittoriano anche se parliamo di un'epoca vittoriana un po' particolare come ho detto prima le regole sono comunque quelle quindi francamente non capisco bene dove si sia vista questa analogia di messaggio per me il messaggio di povere creature è molto più impattante e interessante rispetto a quello di Barbie poi io non voglio stare a paragonare i due film per l'amor di Dio però siccome siamo in periodo Oscar siccome sono tutte e due concorrenti con un buon numero di candidature e c'è la polemica in questi giorni volevo per appunto rispondere a tutte quelle persone che mi hanno detto non trovi che siano due film molto simili secondo me sono due film completamente diversi lasciando stare proprio che sono due film che raccontano cose diverse però il messaggio anche a me non sembra lo stesso anzi questo è un messaggio femminista completamente differente perché semplicemente vuole farti capire come alcuni atteggiamenti sono ancora oggi vivi in molte persone perché di persone che si comportano come si è comportato il personaggio di Mark Ruffalo Duncan ne conosco anche per cui non mi stupisce purtroppo che ci siano persone del genere vuole farti capire proprio questo che dovremmo essere tutti ma non solo le donne tutti in grado di liberarci dai pregiudizi perché qui abbiamo anche degli uomini che magari hanno un certo tipo di atteggiamento e poco a poco iniziano a capire che non si possono obbligare le persone le donne anche a fare quello che si vuole nonostante la società per anni abbia insegnato che in realtà si dovrebbe perché soprattutto le donne si devono comportare in un certo modo una donna non dovrebbe parlare pensare troppo al sesso e questo in realtà è qualcosa che esiste ancora oggi guardate ad esempio come vengono trattate le ragazze che di lavoro fanno le holy fans cioè ancora oggi c'è un modo di trattare chi lavora col sesso chi parla di sesso che è diciamo molto poco contemporaneo ci piace pensare di essere tutti con la mente aperta poi però quando arriva il momento di parlare di certi agromenti ecco che subito ci si chiude a riccio è un film che sdogana il tabù sessuale con scene anche molto esplicite di cui in tanti si sono lamentati io personalmente l'ho trovato un film estremamente libero da questo punto di vista un po' ridondante forse magari le scene di sesso si poteva ripetere un po' di meno ma non solo quelle anche le scene con duncan che implora bella di fare quello che dice lui piagnucolando ecco mark raffalo secondo me che è candidato all'oscar come miglioratore non protagonista è stato bravo ma è andato un po' troppo sopra le righe ad un certo punto e non mi ha fatto proprio impazzire personalmente avrei fatto come i sag in cui per il miglioratore non protagonista è candidato non mark raffalo ma william defoe che mi è piaciuto decisamente di più rispetto a lui non che raffalo non sia stato bravo assolutamente qui è più una questione di scrittura perché io credo che lui abbia fatto quello che gli è stato detto di fare doveva fare questo ometto piagnucolone a un certo punto che prima si presenta come un uomo distinto ricco un vero e proprio amatore un tomb of the fam che poi viene distrutto dall'amore ma non tanto dall'amore quanto dalla libertà di Bella perché un uomo talmente tutto d'un pezzo vittoriano che deve avere la moglie che fa tutto quello che dice lui che essendosi innamorato di una donna che invece non fa per niente quello che vuole lui e che non si fa problemi a dirgli che è stata con altri uomini viene completamente distrutto da questa cosa ogni sua certezza crolla lo dice anche lui a un certo punto non so più nemmeno io chi sono quindi è un film che parla di quanto la libertà possa essere pericolosa per un certo tipo di atteggiamento per un certo tipo di mentalità e ti fa capire che la libertà ha i suoi lati positivi e ha i suoi lati negativi perché a un certo punto Bella inizia a pagare lo scotto di questa sua libertà io ho trovato sensazionale Emma Stone solo perché ha un'espressività che è incredibile e il processo di apprendimento di Bella avviene gradualmente poi sempre più velocemente e lei è stata bravissima a cogliere ogni sfumatura di questo cambiamento con piccoli sguardi movimenti degli occhi delle sopracciglia arricciamenti delle labbra è stata clamorosa tanto che inizio a non essere più così convinto della vittoria agli Oscar di Lily Gladstone che è l'attrice di Killers of the Flower Moon francamente prima ero molto convinto sono ancora convinto che abbia delle possibilità però non avevo ancora visto Povere Creature adesso che ho visto Povere Creature inizio a pensare che forse non è così sicuro al 100% che Lily Gladstone vincerà effettivamente l'Oscar perché la Stone è stata molto brava e se la Stone dovesse vincere l'Oscar vorrebbe dire che a soli 35 anni ne ha già vinti due perché comunque l'aveva vinto per La La Land e francamente sarebbe stupefacente lei è veramente tanto brava è un ruolo comunque che non è stato semplicissimo oltretutto non è scontato che tutte le attrici comunque con una certa fama abbiano voglia di recitare scene di sesso così tanto esplicite infatti se non sbaglio in Italia il film è avviatato migliori di 14 anni ma perché non si può negare che tra tutti i film mainstream di questo tipo che ho visto negli ultimi anni sia quello più strong perché comunque ci sono tante scene di nudo tante scene a sfondo sessuale dove non è che ci si risparmi più di tanto e sì non è una cosa nuova nel cinema ho visto un sacco di film con scene esplicite però questo devo dire che spinge abbastanza giù e non è ninfomaniac capito non è un film che vuole provocare in quel modo per cui non mi aspettavo ce ne fossero così tante onestamente e io adoro l'antimos proprio perché lui ancora una volta ci fa un discorso molto contemporaneo ma ambientando tutto in un passato estremamente grottesco un po' come aveva fatto con la favorita in cui gli elementi grotteschi erano tantissimi soprattutto nell'aspetto dei personaggi nelle cose che vedevano fatte in tanti mi hanno chiesto come lo valuti rispetto alla filmografia di l'antimos allora per me non è il migliore perché io continuo a rimanere dell'idea che Kino Dantas sia uno dei più sconvolgenti ancora però mi sono piaciuti tutti cioè il film meno riuscito di l'antimos è comunque un film incredibile nella filmografia generale perché ad esempio se devo dirla mia quello che mi aveva creato più problemi per quanto mi fosse piaciuto era il sacrificio del cervo sacro che secondo me andava un po' fuori dal binario a un certo punto secondo me eccedeva un po' in alcune scene e anche attivando la sospensione dell'incredulità mi perdeva un po' questo ha anche lui dei difetti e adesso parliamo anche di quello perché ci sono delle criticità delle problematiche con povere creature però mi è piaciuto leggermente di più rispetto al sacrificio del cervo sacro che pure comunque un gran film questo povere creature a mio modesto parere ha come difetto principale il fatto che sia forse un po' troppo ridondante cioè il concetto viene reiterato ancora e ancora e ancora e questo alla lunga può pesare un pochino soprattutto l'ultimissimo atto per quanto fosse necessario per quanto riguarda la storia mi è sembrato un po' di troppo nella storia che viene raccontata nel film perché uno potrebbe dire vabbè ma scusami nel romanzo adesso non lo so perché ho ancora finito di leggerlo però nel romanzo va esattamente così ci sta ho capito allora provi ad accorciare altrove perché queste due ore un quarto di durata due ore e venti le ho leggermente sentite negli ultimi 20 minuti se il film fosse durato anche solo un quarto d'ora di meno secondo me sarebbe stato più snello perché a un certo punto mi sembra che siamo arrivati alla fine ma che il film ci tiene a continuare ancora per circa 20 minuti perché si erano dimenticati di raccontare una cosa che effettivamente è importante ma che secondo me si poteva accorciare e parecchio poi sono scelte poi sì è vero che il film è un po' di da scalico ma il motivo è molto semplice è che si parla di una creatura che per l'appunto deve imparare le cose quindi gli insegnamenti vengono sempre letti a altavoce vengono sempre esplicitati ed è una cosa assolutamente ricercata da McNamara che ha scritto la sceneggiatura che è tratta da romanzo perché da quello che ho capito è così anche nel romanzo e questo è un aspetto fondamentale perché è un film che parla di insegnamento anche e l'insegnamento è di per sé spesso di da scalico quindi questa cosa è vero che c'è ma a me non ha dato fastidio perché mi sembra perfettamente coerente con quello che il film vuole fare poi secondo me è un film che vuole sì essere libero perché parla di libertà però allo stesso tempo pur non risparmiandosi per alcune cose si tiene per altre diciamo che ci sono dei personaggi che potevano essere sviscerati molto di più e che non lo sono particolarmente come Harry oppure Swinney personaggi che secondo me potevano dare un ottimo contributo perché poi tra l'altro c'è anche questo personaggio per appunto Swinney che è una donna di mezza età anzi di età avanzata la quale fa capire Bella che queste pulsioni che sta provando sono importanti ma che non sono tutto infatti mano a mano che va avanti Bella inizia a contenersi inizia a capire che certe pulsioni che prova non sono tutto che c'è altro ci sono altre cose di cui si vuole occupare è bellissima la scena in cui il personaggio si interfaccia con la crudeltà e la cattiveria del mondo tra l'altro lei a un certo punto vuole capire se sia una persona crudele se sia stata una persona crudele è un film che si interroga non solo sulla libertà e sull'emancipazione delle donne ma delle persone in generale ma si interroga anche proprio sulla natura umana è come se fosse un trattato filosofico su quale sia la natura umana e questo viene declinato su ogni personaggio perché noi vediamo la natura umana di ciascuno vediamo la natura di Bella che è un umano ma creato e quindi piano piano cerca di come posso dire di maturare tra l'altro è inquietante all'inizio quando le persone si vedono a tratte la bella perché viene detto che ha praticamente il cervello di un bambino e quindi c'è un sottotesto molto raggelante che serpeggia un sottotesto che tocca tematiche quasi tendenti alla pedofilia per poi andare oltre per fortuna perché io ero lì che dicevo no vi prego andate avanti per cortesia fate che inizi ad apprendere subito perché altrimenti mi sento male e onestamente io trovo che sia interessante anche l'evoluzione di Max che è un personaggio che a me è piaciuto molto che parte come un galoppino codardo fino ad arrivare a un uomo con una certa consapevolezza che supera anche l'indottrinamento di una società che vuole gli uomini come fieri forti che non permettono alle donne di essere libera in nessun modo supera quella che viene definita oggi mascolinità tossica quello è così come anche Godwin che è un personaggio che mantiene la sua curiosità per la scienza il suo modo di pensare rigido e basato su dogmi scientifici e poi abbiamo anche il personaggio di Duncan cioè Duncan comunque un personaggio che non ha un reale cambiamento lui non può cambiare ormai è completamente intriso di quel maschilismo su cui si fondava la società dell'epoca e quindi torna a un certo punto ad avere una certa importanza ma sempre per via del suo carattere misogino maschilista totale e completo e io sinceramente sono anche dell'idea che ci sia anche ad esempio il personaggio della maîtresse a Parigi a un certo punto un personaggio vicino ed è un personaggio femminile per quello che dicevo ma a me non sembra che come in Barbie le donne siano tutte brave perfette eccetera gli erano i scemi anzi qua abbiamo anche personaggi femminili che non sono proprio fantastici per cui è bella si fa la sua grande esperienza ci sono anche delle scene deliziosamente ironiche un film che mette in gioco un black humor non indifferente soprattutto in alcune scene io ho riso parecchio anche perché non mi aspettavo l'incursione di una volgarità così diffusa è volgarissimo come film anche nel linguaggio però è tutto ricercato e personalmente io ho apprezzato molto questa cosa senza contare che il tutto è coniuvato da musiche che sono veramente splendide con questi violini grattati che ho trovato veramente veramente perfetti per l'atmosfera del film perché sono musiche che potrei definire grottesche perché hanno delle sonorità che io associo all'ambiente grottesco del film però poi ci sono anche momenti in cui il film ti mostra queste tecnologie bizzarrissime che sembrano uscite da un film degli anni 20 e ci sono tantissimi riferimenti infatti a Metropolis di Fritz Lang ma veramente tanti per cui anche da questo punto di vista il film è riuscito a soddisfarmi e non poco con comunque interpretazioni di altissimo livello una regia che neanche ve lo sto a dire è strepitosa soprattutto per il modo in cui ti vuole mostrare questi spazi aperti e sconfinati pur risultando a tratti claustrofobica cioè io mi sentivo quasi soffocare da queste chiusure con il mascherino con il fisciai anche in alcuni momenti mi sembrava di essere quasi in una palla di vetro che distorceva tutto e l'antimos è uno che veramente riesce a distruggerti l'anima con la sua regia senza però cadere nella trappola del virtuosismo riesce a farti capire che è bravo a dirigere senza dover utilizzare questi movimenti di macchina pomposi e magniloquenti e riesce quindi a a far capire quello che vuole dire lui comunica tanto con le immagini comunica tantissimo per cui è un film che si è beccato tante candidature tra cui anche tante candidature tecniche dove potrebbe vincere in molte di queste per il semplice fatto che davvero il lato tecnico è eccezionale ma perché comunque l'antimoso è uno che ci ha sempre tenuto a queste cose lui ha sempre voluto curare molto il lato tecnico perché i suoi film devono colpire prima di tutto a livello estetico e poi arriva il messaggio a me è piaciuto molto il finale del film soprattutto perché è quasi ciclico ti fa capire che la storia si ripete ancora ancora ma ad ogni ciclo è cambiato qualcosa c'è una nuova consapevolezza è come se fosse quasi la la storia della nostra società ma riveduta corretta perché in un certo senso si può pensare è da qui che si arriverà a come siamo oggi con ancora alcune problematiche ma abbiamo fatto anche dei passi da gigante tra l'altro c'è anche Margaret Qualley nel film che interpreta un ruolo molto carino e anche molto importante per quanto possa sembrare marginale se poi ci riflettete e riflettete al finale vi rendete conto che in realtà quel personaggio è la chiave di tutto è il senso stesso del film in un certo senso il contagio della rivoluzione delle idee e quindi ho apprezzato anche questo un film che rivedrei anche molto volentieri comunque quando ho detto prima che si sentono le due ore e venti non è che io mi sia annoiato semplicemente ho sentito un po' il tempo che è passato perché si arenava leggermente il film rallentava rallentava il ritmo e questa cosa la sentivo però francamente non ho disprezzato l'unica parte in cui ho provato curiosità e interesse ma anche un filo di ho detto ma insomma magari andiamo con la successiva è la parte di Parigi che ha alcune cose interessanti altre che secondo me si potevano migliorare e poi l'ultimissima parte che non dura tantissimo però insomma si poteva anche magari velocizzare un po' snellire qua e là ecco si poteva tranquillamente fare quindi io rimango dell'idea che sia un film eccezionale che le 11 candidature agli Oscar e tutti i premi che ha vinto prima di prima delle candidature agli Oscar siano stati non meritati di più e francamente per ora non c'è stato un singolo film di questo grandissimo regista che mi abbia deluso ho sentito parlare di film paraculo eh paraculo perché si aggancia alla tematica femminista come al solito sì però non è che se lo sia inventato l'antimos ha preso un libro che probabilmente lo ha colpito e ha detto cavolo soprattutto in questo periodo in cui la tematica è molto importante io penso di avere qualcosa da dire perché io voglio stare sul pezzo non vedo dove sia il problema ad altronde l'antimos si è sempre interrogato sul tema della libertà sul tema dell'emancipazione cioè perdonatemi ma non mi sembra che povere creature non parli più o meno delle stesse cose di Kino Dontas cioè Dogtooth solo che Dogtooth lo faceva in maniera molto più disturbante questo è un film molto più gioioso solare e allegro però se ci pensate torna la tematica della libertà dell'emancipazione e quindi della figura femminile che deve essere libera di fare quello che vuole ma che gli altri cercano di asservire quella maschile cioè pensate al padre in Kino Dontas cosa fa ad un certo punto una delle figlie cosa le fa fare cioè è solo che quel film aveva un altro tipo di atmosfera ma non mi sembra che l'antimos sia uscito troppo dal seminato pensate a The Lobster parla di amore parla di sesso pensate il sacrificio del cervo sacro quante scene di sesso c'erano del sacrificio del cervo sacro con le donne che si mettevano lì ferme in attesa di essere penetrate come se si stessero effettivamente sacrificando su un altare non mi sembra che questo film sia tanto diverso pensate alla favorita parla di amore parla di sesso parla anche lì di emanciparsi e c'era la contraposizione tra l'emancipazione e l'asservimento la manipolazione anche qui si parla in un certo senso di manipolazione di quanto il sesso possa essere manipolatorio anche involontariamente per cui francamente a sentire molti ma anche i critici sembra che Lantino si sia improvvisamente buttato su qualcosa di comodo e facile ma in realtà lui si è buttato su un libro che proponeva delle tematiche che lui ha sempre trattato in tutta la sua filmografia solo che essendo un bravo regista non ti propone mai la stessa minestra riscaldata cento volte ma ogni volta le stesse tematiche vengono declinate in maniera diversa e se ne sviscera appositamente un aspetto per cui per me è un film estremamente nelle corde di Lantinos e sono contento che lui abbia voluto buttarsi nel tentativo di trasporre il libro perché è uscito fuori qualcosa di estremamente interessante io sono contentissimo di questo per cui povere creature è un film da vedere ed è da vedere in sala per quanto mi riguarda cioè per me è importantissimo che venga visto in sala perché è un film io faccio questo esempio l'altro giorno sono andato a vedere un film che avevo già visto tantissime volte che è Il Cacciatore che a me è sempre piaciuto un vero e proprio capolavoro lo hanno portato in sala negli ultimi giorni sono andato a vederlo e alla fine della visione ho pensato è come non averlo mai visto perché certi film finché non li vedi sul grande schermo non ti daranno mai quelle precise sensazioni che volevano mandare quando erano andati in sala all'epoca quindi questo è uno di quei film che potete anche recuperarvi in un secondo momento per carità meglio che non vederlo ma se potete vederlo in sala è decisamente meglio credetemi perché mi è capitato anche quando vedi il 2001 di Siano lo spazio alien film che avevo sbriciolato a furia di vederli poi quando li ho visti in sala ho pensato subito boh li avrò visti 20 volte ma non è come non averli mai visti Arancia Meccanica lo stesso non dico che Povera Creature è da paragonare a quei film per l'amor di Dio però è uno di quei film che secondo me sono pensati esplicitamente per la visione in sala per cui guardateli sul grande schermo così potete apprezzare la bellezza della regia di Lantimos la bellezza delle scenografie poi anche le musiche secondo me vanno ascoltate in quel contesto in una sala con un buon impianto audio insomma guardatelo in una sala cinematografica perché per me è così che andrebbe guardato questo film per cui questo è quello che pensavo in maniera un pochino più generale di Povera Creature di Yorgos Lantimos fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate voi io vi abbraccio vi ringrazio grazie se vi ringrazio tanto ma tanto ma tanto bene noi ci vediamo al prossimo video se il film non l'avete ancora visto se invece non l'avete visto avete saputo la mia più nello specifico gli spoiler iniziano tra 3 2 1 allora partiamo dall'inizio ovvero da quando vediamo per l'appunto bella che è proprio come una bambina lì è bello perché vedi proprio le fasi dell'esplorazione più lei apprende più diventa intelligente ovviamente però in maniera molto più rapida rispetto a un effettivo bambino perché vediamo proprio il processo in cui lei inizia a imparare qualche parola piano piano le frasi diventano di senso compiuto e poi a un certo punto inizia ad articolare per bene i discorsi poi lei scopre il piacere sessuale e inizia a masturbarsi di continuo lei non capisce che nella società questa cosa è considerata sconveniente e anche quando lo capisce e maldestramente ogni tanto cerca di ricordarselo comunque lei non comprende il perché non dovrebbe poter fare quello che fa c'è il momento in cui si masturba con la mela che fa morire da ridere perché lei non riesce a capire effettivamente quale oggetto utilizzare che possa dare più piacere poi a dare la mela passa al cetriolo c'è anche il momento in cui dice alla governante vi vedo un po' ombroso un po' triste aspetti le faccio vedere io come essere felice e cerca di di avvicinarsi ai suoi organi genitali con questa qui indignata perché invece è il prodotto perfetto di una società maschilista e patriarcale in cui le donne dovrebbero stare al loro posto ma Bella ovviamente non ci sta e ho trovato interessante il fatto che Max che è promesso sposo di Bella all'inizio vorrebbe spaccare la faccia ad Uncan ma viene sedato da Bella con il cloroformio quando si risveglia si rende conto che Godwin l'ha lasciata andare lui dice ma perché l'avete lasciata andare lui risponde perché lei deve vedere il mondo deve scoprire perché Godwin fa questo uno perché ha sviluppato dei sentimenti per Bella e quindi non se la sente di tenerla imprigionata inizialmente voleva farlo ma poi quando lei esprime la volontà di vedere il mondo di fare esperienze lui un po' perché prova dei sentimenti un po' perché alla fine cosa c'è di più scientifico del desiderio di sperimentare è un essere empirico Bella come tutti gli esseri umani noi siamo esseri noi siamo esseri estremamente empirici cioè noi cresciamo attraverso le esperienze lui non può resistere alla richiesta di poter vivere delle esperienze di poter di poter mettere in atto degli esperimenti empirici e quindi Godwin la lascia andare la lascia andare e Max capisce che non può intrappolarla non può imbrigliarla nonostante lui sia geloso del fatto che lei vada con Duncan e probabilmente abbia rapporti sessuali cosa che può succedere poi però c'è Duncan che quando quando hanno fatto sesso lui dice si ma non innamorarti di me è solo un'avventura e lei dice va bene lui ci rimane male perché pensa ma come cioè questa non cade ai miei piedi come gli altri quando poi scopre che lei si è fatta praticare un cunnilingus da uno sconosciuto perché aveva del calore da liberare è interessante il modo in cui Bella descrive il sesso come qualcosa che dà felicità ma anche come qualcosa che serve per sfogare aveva del calore da liberare e quindi lui impazzisce e viene distrutto non tanto dall'amore ma da questo moto di possessione che ha nei confronti di Bella che non riesce a controllare tant'è vero che questo lo spinge a rapirla e a portarla sulla nave dove le cose non fanno altro che peggiorare perché sulla nave lei incontra Sweeney e Harry che sono questa donna e questo uomo estremamente intelligenti che la fanno avvicinare alla filosofia quindi per per Duncan questo è un problema in più perché Bella sta anche diventando intelligente o no una donna libera sessualmente intelligente ma è un incubo no è questo che ti vuole dire che ti vuole dire l'antimus l'antimus ancora oggi una donna intelligente e libera sessualmente fa paura a certi uomini perché una donna così non la puoi controllare in nessun modo ed è brutto pensare che ci siano ancora persone che fanno certi tipi di ragionamenti però viviamo in una realtà in cui questo c'è però vuole anche prendere Bella non solo come esempio femminile ma come esempio di essere umano quindi un essere umano che agogna la libertà ma che a un certo punto si rende conto che questa libertà lo porta anche a confrontarsi con la cattiveria lei si confronta con il male con la sofferenza quando vedi i bambini ad Alessandria morti nei fossi ma si confronta anche col cinismo e la cattiveria di Henry che le ha fatto vedere quella scena sperando che il suo inguaribile ottimismo di Bella venisse spezzato e le chiede scusa poi perché Henry è un cinico perché evidentemente ha vissuto delle esperienze nella vita che l'hanno portato a proteggersi in questo modo oltretutto è un personaggio evidentemente omosessuale perché capiamo che non approfitta del fatto che Bella sia andata nella sua stanza per cercare di sedurla perché non è interessato quindi Duncan impazzisce definitivamente quando arrivano a Parigi perché Bella prende i soldi che lui ha vinto al casino e li dà a questi due mozzi che poi se li prendono perché lei dice dateli ai poveri ma questi qui si ritengono ovviamente per far capire appunto a che punto può arrivare la cattiveria dell'essere umano lei arriva a Parigi lascia andare lui perché lui si incazza quando scopre che lei ha iniziato a fare la prostituta perché lei dice beh però insomma alla fine ho bisogno di soldi e ho bisogno di sesso mi sembra che questa esperienza vada a risolvere queste due mie esigenze quando lui lo scopre va fuori di testa e la parte del bordello è divertente perché vediamo Bella che si interfaccia con tanti tipi di uomini ad esempio ce n'è uno che puzza lei dice ma viene da voi questo odore però allo stesso tempo fa sesso brutale con lui per cui si rende conto che quest'uomo bestiale che puzza le ha dato comunque un certo tipo di piacere poi arriva quello con i figli che vuole dimostrare come si fa sesso dominando una donna ma poi è lei che fa vedere come lo domina dice basta mettere un dito nel sedere o un leggero soffocamento e il padre viene con questi bambini che prendono questi ragazzini che prendono appunti una scena che mi ha fatto dire ok era un po' era un po' mi ha fatto venire un po' i brividi ho detto va bene però allo stesso tempo era divertente e piano piano lei inizia a fare esperienza c'è la maîtresse che le fa una lezione molto didascalica perché l'ho detto il film è didascalico non si può dire di no ci sono proprio delle lezioni che ti fa ma perché vuole essere così perché è un film che vuole che ci sia questo didascalismo deve esserci perché è un film su una persona che apprende e impara e quindi tutte le lezioni che apprende e impara le dice all'altra voce peraltro lei è solita parlare di se stessa in terza persona per cui questa cosa l'ho apprezzata molto non mi ha dato fastidio il fatto che fosse didascalico cioè è ricercato è voluto il fatto che sia effettivamente didascalico quindi ho trovato molto interessante anche il fatto che ad un certo punto torna perché Godwin sta morendo e scopre che nel frattempo Godwin e Max hanno creato un'altra un'altra ragazza Felicity che è interpretata per appunto a Margaret Qualley che però apprende in maniera molto più lenta rispetto a Bella e quando Bella torna e dice che vuole sposare Max che nel frattempo ha capito che lui non può imbrigliare Bella Bella intanto è diventata molto pragmatica molto più sicura di sé anche e nota che a un certo punto arriva il marito della donna da cui Bella è creata perché Godwin l'ha creata prendendo il cadavere di una donna che si era buttata da un ponte che era incinta ha estratto il cervello del bambino e l'ha messo nella testa della madre quindi è un essere che è madre e figlio allo stesso tempo è un essere che è una congiunzione tra una vita e l'altra e quando quest'uomo arriva Bella lo segue e scopre che lei non era una bellissima persona ma anche per colpa del marito che l'aveva trasformata un po' tant'è vero che lei a un certo punto si è ammazzata perché non voleva avere suo figlio quando lei capisce questo si sbarazza di quest'uomo che vorrebbe mutilare le genitali in modo da calmare le sue pulsioni sessuali sconvenienti per una signora e lei lo prende gli spara lo prende lo porta da Godwin estraggono il cervello gli mettono il cervello di una capra e alla fine è lei con Godwin che è morto lei Max e la ragazza che l'ha conosciuta al bordello che sono tranquilli con il colonnello il marito della donna che era prima di diventare bella che è diventato un animale domestico col cervello di capra e poi e poi a un certo punto vediamo che Felicity improvvisamente lascia cadere il martello e si avvia verso la scalinata come a dire che ha iniziato anche lei ad avere la consapevolezza di sé e il desiderio di vedere il mondo come se fosse un ciclo è finito il ciclo di Bella inizia il ciclo di Felicity con Bella che dice a Max ho un po' paura per l'esame di anatomia perché lei vuole fare il medico e Max che risponde ma no andrà benissimo tranquillo quindi lei che è una donna emancipata ma ha bisogno comunque di Max in un certo senso quindi ti fa capire che non è che se una donna è emancipata allora non può avere bisogno del conforto di un uomo è un film che vuole farti capire che non è che che una donna in quanto donna basta a se stessa e basta le persone in generale non è che bastano a se stesse abbiamo bisogno gli uni degli altri quindi il fatto di essere liberi e emancipati non significa che non possiamo avere le nostre sicurezze che possono esserci attenuate da altre persone dello stesso te e sesso dello stesso posto non importa poi io ho amato tutte le parti dove si vedevano gli animali bizzarri creati da Godwin quindi il il cane con la testa di oca il pollo con la testa da cane queste cose fanno morire da ridere perché vengono presentate come qualcosa che non suscita chissà quale grande stupore a me quindi questo è piaciuto un sacco per cui sì è un film che ha i suoi difetti niente da dire però ha anche tante cose che funzionano moltissimo io l'ho apprezzato tanto e per me si merita tutto quello che sta ricevendo davvero perché comunque l'Antimus è un regista che sa il fatto suo e che sa come trattare certe tematiche senza mai risultare troppo banale quindi per me è un film assolutamente riuscito che ho apprezzato moltissimo quindi fatemi sapere voi in un commento qui sotto che cosa ne pensate di povere creature io vi abbraccio vi ringrazio grazie per essere qui e noi ci vediamo al prossimo vlog ciao a tutti grazie a tutti